Una collaboratrice scolastica in servizio al liceo statale Martin Luther King di Favara è morta subito dopo essere giunta in servizio. Da quanto ricostruito, la donna, 63 anni appena compiuti, sarebbe stata colta da un improvviso malore e si è accasciata a terra in un corridoio del primo piano del liceo King di Favara. Sarebbe morta di colpo. All'uscita di casa e fino all'arrivo a scuola non avrebbe accusato malori, sconvolti per l'accaduto, la dirigente scolastica, il personale e gli alunni. Immediato l'arrivo dei carabinieri della locale tenenza e dei soccorsi che hanno potuto solo constatare il decesso della donna. La salma è stata trasportata dalla confraternita misericordia di Favara alla camera mortuaria dell'Agenzia Castronovo di fronte il cimitero.